Senatore Candiani, lei ha criticato molto le scelte del governo in questo decreto enti locali perché di fatto tutti i gestori delle slot machine? È un paradosso perché si parlava di tutt'altro e ci siamo trovati invece con un emendamento inserito all'ultimo istante della maggioranza, in questo caso dal nuovo centrodestra, supportato poi da Scelta Civica e dal PD che ha inserito una cosa mostruosa, ovvero una modifica di legge che definisce che se un comune piuttosto che un'amministrazione regionale o un'altra amministrazione pubblica locale impone delle regole o dei limiti alla presenza delle slot machine sul proprio territorio e questi limiti producono ovviamente una riduzione del gettito a favore dello Stato, bene, a quell'ente territoriale che sia il comune o la regione lo Stato tratterrà dal trasferimento ordinario dello Stato pari cifra, il che vuol dire veramente essere asserviti in maniera totale alle lobby del gioco d'azzardo. Su questo c'è stato molto scandalo in aula e l'ipocrisia ha portato poi in maniera veramente incredibile la maggioranza di governo a presentare un ordine del giorno che impegna il governo comunque in ogni caso, forse eccetera eccetera eccetera, a vedere anche di tenere conto del disagio ai cittadini e alle regioni e ai comuni. Grande ipocrisia. Nella realtà dei fatti, se questa è la svolta della nuova politica del Partito Democratico, Renzi deve fare una riflessione molto importante perché stanno avvenendo delle cose veramente gravi come quella che stiamo dicendo. L'unica cosa che interessa è sostenere le lobby e far girare i soldi nei partiti politici. Questo l'abbiamo visto in questo momento specifico su questo decreto. Non dimentichiamo che soprattutto in questo periodo di crisi economica sono molte le famiglie che si stanno rovinando. Assolutamente sì, l'abbiamo denunciato a suo tempo e abbiamo trovato forte convergenza in Senato. Il problema è che il governo invece va per la propria strada e fa finta che tutto questo non avvenga. Il perché l'abbiamo appena detto e lo ribadisco? Perché gli interessi in questo caso della politica corrispondono a quella della protezione delle lobby. E quello del gioco d'azzardo è una lobby che porta nelle casse dello Stato 7 miliardi di euro e nel tasche, in questo caso dei lobbisti, ovvero degli interessi economici che stanno dietro, parecchie decine di miliardi di euro ogni anno. Ricordiamoci che la famosa lobby che ha ricevuto una sanzione di 98 miliardi di euro derubricata volta per volta e ridotta oggi a poca, una smanciata di spiccioli, quindi qualche centinaio di milioni che non pagheranno mai. Il governo è sottoricato da parte di questo tipo di pressioni. Grazie a tutti.